È un 122esimo congresso in rosa, quello della SAT che alla VISA ha posto l'attenzione attorno al tema donne e montagna. La presenza femminile nelle realtà alpine è infatti sempre più in crescita. Oggi le donne sono il 40% dei 27.000 iscritti. Questo è un congresso che è un inizio, non è una conclusione di un percorso. È l'inizio proprio di ragionamenti ma anche di scelte politiche di carattere gestionale, evidentemente che faremo all'interno di SAT proprio per promuovere, facilitare, aiutare. Perché secondo noi la componente femminile è una componente che dà molta ricchezza. In prima fila anche Mari Caffavè, la prima donna trentina a diventare guida alpina. Non ci ho mai pensato più di tanto prima perché pensavo fosse una cosa troppo grande, fuori dalla mia portata. E alla fine ho creduto un po' in me stessa e ho inseguito un sogno che si è realizzato. Che cosa le dà la montagna? La montagna dà tanto, dà benessere fisico, dà emozioni, dà soddisfazioni, è una scuola di vita. Durante il congresso anche un viaggio nella storia con l'aiuto di un'antropologa e una sociologa per testimoniare che la montagna non è solo un mondo di appannaggio maschile e ripensare alle responsabilità delle SATINE negli scenari futuri.